Sovraindebitamento è un male che affligge un milione e mezzo di famiglie in Italia, milioni le persone coinvolte, nel 2000 erano solo 190.000, è l'incapacità di pagare i propri debiti, è una piaga che soffoca veramente la vita a quelle persone che per vari motivi non riescono più ad addempiere al loro dovere con banche, finanziarie, lo Stato, Equitalia o fornitori. Se stai affrontando una situazione angosciosa a causa dei troppi debiti o conosci un familiare o un amico che sta vivendo il disagio del sovraindebitamento, ebbene ti consiglio con il cuore di vedere fino alla fine questo video. Sono Gianmario Bertollo, uno dei fondatori di Lecce3.it. In passato, a causa di gravi problemi familiari e di miei errori, ho vissuto il disagio, l'angoscia e l'imbarazzo di vivere con debiti che non riuscivo a pagare. So quindi bene come ci si sente. Oggi fortunatamente posso raccontarti una storia nuova e questo mi spinge a dirti che per il problema del sovraindebitamento esiste una soluzione. Parliamo di qualche anno fa, era il 2012, e un boom di suicidi dovuti alla forte crisi costringe il governo, buon ultimo in Europa, a emanare una legge a tutela delle persone in forte stato di sovraindebitamento. Sto parlando della legge 3 del 2012, presto ribattezzata la salva suicidi. Hai capito bene, esiste in Italia una legge che tutela le persone che hanno accumulato troppi debiti e non riescono a pagarli. Forse ti stai chiedendo perché finora non ne ho mai sentito parlare? È semplice, la maggior parte dei creditori sono banche, grandi finanziarie, lo Stato e la famigerata Equitalia. Hai capito perché non si fa tanta propaganda a questa soluzione? A fronte degli enormi benefici che questa legge può portare a milioni di italiani, abbiamo deciso di creare il più grande gruppo di professionisti specializzato nel dare l'adeguata e necessaria consulenza per poter beneficiare della legge salva suicidi. Abbiamo creato legge 3.it mettendo a tua disposizione commercialisti, consulenti e avvocati in grado di risolvere la tua situazione di sovraindebitamento con un metodo legale e comprovato. Con 76 filiali in tutta Italia e oltre 130 professionisti specializzati, ora hai la possibilità di affidarti a chi conosce veramente le procedure tecniche e legali e ha la possibilità di prenderti per mano e portarti fuori da questo buio, fuori dalla morsa che non ti fa respirare, che non ti fa dormire la notte e forse ti fa fare anche brutti pensieri. Chiamaci o lascia i tuoi riferimenti al nostro sito www.legge3.it. Ti risponderanno dei consulenti in grado di darti maggiori informazioni oppure se lo desideri potrai fissare un appuntamento con un nostro esperto. In conclusione permettemi di dirti una cosa, se fino a ieri non vedevi soluzioni ai tuoi problemi, oggi hai trovato il metodo e le persone giuste per tornare alla serenità che tu e la tua famiglia meritate. Buona vita!